Cammina in avanti su una linea. Metti un piede davanti all'altro. Mantieni le braccia tese davanti al tuo corpo, poi sopra la testa e infine lasciarle cadere di lato. Ripetere l'esercizio dieci volte. Per semplificare l'esercizio, tieni le braccia lungo i fianchi. Per rendere l'esercizio più difficile, cammina sulle punte dei piedi. Chiudi gli occhi. Fai l'esercizio su una superficie instabile, come per esempio una corda, un materasso o un divano. Mettere l'esercizio su una superficie instabile. Mettere l'esercizio su una superficie instabile.